tra le braccia, lo sguardo è alle ginocchia, mantenete la posizione di massima chiusura e camminate con i piedi verso le mani a chiudere la pinza, le mani sono dietro le caviglie, scivolate giù con la testa verso le vostre gambe, da questa posizione attiva i muscoli della colonna, porta il busto a 90 gradi con le gambe, chiudi bene le scapole, senza muovere le spalle e porta le braccia tese lungo la linea del busto e spingi i pollici verso l'alto, contrai, mantieni la posizione di sul piano bellico e di nuovo scendi nella pinza, risali di nuovo contrai i muscoli della colonna a 90 gradi, chiudi le scapole, allunga avanti le braccia, mantieni la posizione, spingi i pollici al cielo, rilassare la pinza.